segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te è stato ha messo veramente in difficoltà no a pezzo però ha messo in difficoltà la meloni si aveva due richieste però la meloni l'ha messo anche all'angolo diciamo un po tutto come sta no no ha fatto ha fatto bingo perché ha portato i voti lei a casa però mettere sempre quando sei premier devi sempre la frase chiave lo sappiamo è il giorno famoso dei quattro aggettivi che si potevano eludere arrogante eccetera lei dice ne manca uno non ricattabile lì si è emancipata però attenzione una cosa buffa è la storia così diversa cioè berlusconi col suo impero a sua forza io mi ricordo quando intervistai la meloni proprio agli inizi dell'emissione ho cominciato come cameriera tu sei stato il primo a intervistarla credo nel 2002 ho sbaglio nel 2002 nel 2002 perché lei era diventata reggente dei giovani pn è un dirigente che io conoscevo i fratelli d'italia molliconese devi incontrarla questa è una bomba tra l'altro buffo perché cominciò dalla manzarda di via della scrofa e in 18 anni è scesa di tre piani nell'ufficio che era di almirante però è una bella differenza no ma senti questa mi disse questa cosa buffa sono partita come cameriera si faticava tanto ha fatto pure a babysitter no poi ha ha fatto il primo salto è diventata babysitter aveva più tempo con fiorello fra l'altro molto divertente questa storia alla fine dice il mio grande esploit fu quando diventai barman e faceva un cocktail che si chiamava angelo zurro a base di vodka perché qui barman scusate avete sentito cazzullo ha sottolineato ripeto aldo sottolinea barman e non barwoman c'è una coerenza